Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Mukbang Allora se mi vedete con le cuffie E' perchè sto provando a fare Un video Mukbang Tipo ASMR ma non proprio perchè io parlo Però dove si sentono Molto meglio i suoni di quando mastico Perchè appunto me l'avete richiesto E quindi ho deciso di Di accontentarvi in un certo modo Come potete vedere sto mangiando la pizza Non so se riuscirò a mangiarne Due pezzi perchè in realtà questa non è Né un pranzo né una cena né una merenda Quindi si Man mano che mangio Poi risponderò a qualche vostra domandina Questa qui è una pizza Col croquet Piena di olio tra l'altro Non è scotta Tra l'altro mi scusatemi la poca luce Veramente raga scusatemi se verrà un po' Un disagio Come è la prima volta Per mangiare con una mano è un po' difficile Qui c'è coca Ch anomalie All'altro mi scasa Non è scuora Che è difficile Per mangiare con un po' difficile tra l'altro mi avete fatto alcune domande quindi volevo rispondere e l'ho segnata sul libricino altrimenti mi dimentico allora mi avete scritto come curi i capelli allora questa domanda mi viene fatta spessissimo ma non c'è una vera e propria cura cioè nel senso io non ho una vera e propria cura dei capelli ma semplicemente faccio qualche trattamento ogni mese non ogni mese ogni tipo 2-3 mesi poi me li ha giusto la parrucchiera quindi sicuramente la mano della parrucchiera aiuta tantissimo quindi io non ho assolutamente un prodotto che posso consigliarvi per la cura dei capelli anche perché sono una persona che cambia molto spesso shampoo molto spesso balsamo quindi sono veramente l'ultima persona che può dirvi usate questo, usate questo, usate questo scusatemi se tra l'altro la postazione è un po' croccata male però l'ho improvvisato in due minuti questo video quindi veramente scusatemi è un po' croccata male è un po' croccata male è un po' croccata male se dovete sapere che quando manzo bevo spessissimo comunque un'altra domanda che mi avete fatto è fare qualche sorpresa a Roberto per San Valentino allora ovviamente se farò qualche sorpresa a Roberto non lo dirò qui ragazzi perché Roberto guarda i miei video poi la sorpresa gliel'ho fatta a suo compleanno ovvero il 4 febbraio non so se vedete prima questo video o prima un weekly però nel weekly che vi caricherò lo vedrete ciao 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 Grazie a tutti! Questo video non lo voglio fare troppo lungo, sennò diventa noioso. Ok, un'altra domanda che mi avete fatto è dove compri spesso i vestiti? Allora, questa è una domanda che mi viene fatta spessissimissimo e in realtà io non so darvi una risposta vera e propria. Perché diciamo che varia moltissimo, varia molto molto molto. Anche le mie cuffie saranno pieni di olio. Stava per cadere tutto. Comunque niente, stavo dicendo, non vi so dare una risposta vera e propria. Perché comunque dipende, a volte li compro da Bersk, a Stradivarius, Zara, Pull&Bear, Rone, Cozzetti che non hanno marca, oddio mamma mi fate per la pezza. Quindi sì, non so darvi alcune risposte. Però comunque se mi seguite su Instagram, se non mi seguite vi lascio il nome qua del mio profilo normale, di quello che diciamo parlo di più, quindi di YouTube. Perché vi dico molto spesso dove acquisto, diciamo, li sono attiva ogni giorno ovviamente perché è una cosa più veloce, eccetera, istantanea. E' un po' più veloce, eccetera. Alla fine avevo detto di non mangiarli tutti e due ma in realtà stasera non credo ce ne ero. Comunque se questi video vi piacciono, scrivetemi sotto nei commenti perché così mi attrezzo e mi compro un microfono e almeno riesce meglio il video. Se vi piacciono fatemi sapere con un commento. Perché tenere su un microfono sto coso della cuffia così è stancante. Vediamo se mi riesce. Aspettate, come si fa? Aspettate, come si fa? Buona sabice buonissia. Buona sabice buonissia. Buona sabice buonissia. Questo rumore è fastidioso Secondo me sì Ok ragazzi Ho finito la mia merenda Ho risposto ad alcune delle vostre domande Ovviamente ne ho risposto tantissime Perché questo video ripeto è stato improvvisato a caso Quindi ho visto due domande Ho detto questo e vi mando un bacio Non uccidetemi se ho fatto dei rumori strani Non sono riuscita benissimo Però è la prima volta che giro un video del genere Però volevo provare Perché provare non fa mai male Magari esce una nuova tipologia di video Che porterò molto più spesso Ovviamente aspetto sempre un vostro parere Sotto nei commenti Vi rimando un bacio Vi ricordo di iscrivervi al canale Di lasciarmi un like e di condividere se volete Così che la nostra famiglia possa crescere sempre di più E niente Vi voglio bene come sapete E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao